Lo strumento individuato non ha funzionato per una probabile sopravvalutazione del problema da risolvere. È la lettura fornita dalla CGA di Mestre di fronte ai risultati del concordato preventivo biennale. Il meccanismo, se si riduce la spiegazione all'osso, è il seguente. L'impresa o la partita IVA che aderisce al concordato fissa in anticipo le tasse da pagare per un biennio indipendentemente dall'imponibile e lo Stato allenta i controlli fiscali nel periodo considerato. Questo significa che chi lavora molto in nero può dichiararne un po' e proteggersi dalle sanzioni con un costo relativamente basso, mentre lo Stato può recuperare parte del sommerso che probabilmente non avrebbe intercettato. Si tratta di un tipo di condono che però, secondo la CGA, ha prodotto meno del previsto. Il concordato dovrebbe aver fruttato alle casse dello Stato 1,3 miliardi di euro contro i due preventivati inizialmente. Il patto con il fisco vale mediamente 2.600 euro a impresa. Stringendo il campo al Veneto, a fronte di quasi 395 mila partite IVA e imprese potenzialmente interessate, si stima che abbiano aderito 60 mila attività, il 15,2% del totale. Siamo certi che il parziale successo del concordato preventivo sia riconducibile al fatto che in Italia e ancora più in Veneto c'è molta meno evasione di quanto si creda. Un'affermazione che farà sobbalzare più di qualcuno dalla sedia. Tuttavia, segnaliamo che questo concordato era vantaggiosissimo per chi fa molto nero. E siccome gli imprenditori non sono degli stupidi, se hanno delitto in pochi vuol dire che non avevano nulla da far emergere. Anche perché, a differenza di quello che molti sostengono, i controlli fiscali si fanno eccome. L'anno scorso, ad esempio, partite IVA e imprese hanno subito dal fisco italiano 3 milioni e mezzo di verifiche e di accertamenti.